Ecco, volevo chiedere di Marto con poco geloso, come l'hai conosciuto? Quando il mio bambino era piccolissimo, aveva sei mesi e una mamma che aveva fatto il corso preparto con me, insieme a me, cercò qualcosa per avviare i nostri bambini al bimbingismo. Riuscimmo a contattare la magic teacher Giovanna del Giudice e iniziamo con lei questo magico percorso. Mi sono innamorata letteralmente del metodo che c'è dietro il servizio, per cui alla fine mi sono lasciata convincere da Giovanna a diventare anche io magic teacher. Grazie a tutti.